oh così ho detto tutti tutti a modi zombie già ce n'è due in mezzo toglili per piacere poi me li mette che si confondono come non si va giù se si gira visto che è divertente fare questo come lo faccio fare? questo movimento quello lì meno male che l'ha fatta larga almeno quello non così perché così non lo vanno più dipende in duro in duro ci sta dentro ragazzi ehi guardate quelli che non ce ne prega il cazzo uno, due, tre e non c'è manco un cane non c'è manco un cane andiamo noi soltanto quattro sono quelli di ieri questi sono arrivati figaro eh ma fermali quelli lì guardate quelli allora stavo guardando con invidia no aspetta mi son perso allora sasso dietro tutto lì qua si se vuoi fare quello fai anche quello sasso qua ti prepari no? sasso guardate guardate male posso scendere di lì e non c'è i cosi quindi scendo di lì perché se scendo di qua sono già preparato a fare quello dai riuscire sei te adesso che sei riuscire non me la ricordo le calze le loro note vanno accorciate finito accorciando le calze eh sì ho tagliato via il pezzo mica lo cambiate grazie